Vado da Odifreddi perché nel suo dizionario della stupidità c'è pure la voce grandi opere che è molto imparentata con questo discorso che stiamo facendo. Odifreddi ci spiega il suo punto di vista? Il mio punto di vista è molto semplice ed è che ovviamente la corruzione è un gravissimo male che però incide soltanto in parte ovviamente sui finanziamenti pubblici. E quando anche non ci fosse nessuna corruzione e si riuscisse completamente ad eliminarla rimarrebbe il problema che i grossi finanziamenti che vengono dati a questi grandi opere sono spesso dati per opere che sono inutili. Sta parlando per esempio dell'Olimpiadi di Roma. Io non sono grillino, credo che basta aprire il dizionario alla voce grillo che è vicino alle grandi opere. Di santa ragione a Grillo e a Grillo. Ma ciò nonostante devo dire che la decisione della sindacalà di non fare l'Olimpiadi mi sembra perfettamente sensata. Sono enormi quantitativi di denaro che vengono convogliati in direzioni che secondo me sono sbagliate soprattutto in un momento di crisi. Abbiamo visto quest'anno per esempio l'Expo, un'altra macchina mangiasoldi che sarebbero potuti essere spesi in maniera molto più proficua. Cioè da una parte si dice risparmiamo i costi della politica quando poi appunto sono da questo punto di vista bazzecole. E poi si fanno queste grandi opere che sono appunto i mondiali, gli Expo, le fiere internazionali e così via e in particolare anche appunto le Olimpiadi. Io penso che sarebbe questo sì un compito del governo di indirizzare i finanziamenti dove più ce n'è bisogno e invece lasciar perdere queste cose che sono sovrastrutturali, potrebbero andare bene in periodi appunto di vacche grasse ma non certamente in periodi di crisi. Diciamo che nel nostro menu di freddi insomma inserisci un altro elemento che fa un discorso più generale.